Io chiamerei adesso, farei un cambio nella scaletta, chiamerei il professor Lucchi, Lorenzo Lucchi, perché vorrei entrare insieme prima a Lucchi e poi al professor Lombardi sulla tematica e poi magari a conclusione vediamo cosa sta succedendo sul territorio pratese attraverso il 5G. Perché? Perché Alessio ha detto una serie di cose che hanno delimitato il campo. Il 5G è una tecnologia abilitante, si produrranno un sacco di dati e questi dati vanno interpretati, vanno decodificati, vanno gestiti. Allora noi siamo giornalisti e in questo aspetto qui dobbiamo cominciare a riflettere perché molte delle cose che andranno fatte con i dati passeranno attraverso l'interpretazione di questi dati, cioè il far diventare questi dati intellegibili. Questa è una cosa che già sta accadendo parzialmente, ma quando poi saremo veramente sommersi dai dati e non saremo più in grado di gestirli da esseri umani, avremo bisogno del supporto delle macchine per forza e addirittura le macchine parleranno fra sé per gestirli, perché l'amore dei dati sarà talmente tanta che subentrerà questo supporto che si chiama machine learning, l'autoapprendimento delle macchine. In tutto questo servirà qualcuno che appunto renda il dato intellegibile, non solo, ma proprio in una lezione, un lezione incontro con le aziende a cui ho partecipato anch'io, che teneva e ha tenuto il professor Mucchi proprio qui al PIN, si è parlato anche di un altro aspetto molto importante, e cioè fare entrare questi processi dentro la comunicazione delle aziende, ma non la comunicazione inteso come le aziende si presentano al pubblico, ma inteso come la comunicazione interna ai processi di sistema delle aziende, tutto questo aspetto è ancora da creare, e in tutto questo chi sa comunicare sicuramente avrà un posto, quindi noi siamo in grandi crisi, siamo qui disperati che non sappiamo come fare, perché il digitale ci spaventa e ci costringe a fare dei cambiamenti sostanziali nel modo in cui lavoriamo, e beh insomma ci sono anche delle grosse opportunità, direi che questo è il momento giusto per parlare di che cosa succederà. Grazie mille, allora quello che vi presento oggi è un po' questa esperienza del 5G, il titolo è Verso l'esperienza del 5G, ora troverete in parte questa presentazione ridondante rispetto a quella che avete appena visto, un'esperienza perché diciamo rispetto alle generazioni precedenti, nel 5G si è voluto in qualche modo puntare anche l'attenzione proprio su le opportunità che questa tecnologia, l'infrastruttura di per sé concedeva. Diciamo che al momento che è stata progettata questa nuova infrastruttura di telecomunicazione, in qualche modo si è voluto anche evitare che gli ingegneri fossero di nuovo frustrati nel dire non si può fare. Quindi in qualche modo ad esempio qui fino ad oggi con le tecnologie mobili di telecomunicazione che ci sono oggi, ad esempio se un'azienda chiede di poter pilotare una macchina da remoto utilizzando la realtà virtuale, occorre rispondere, non si può fare. Mentre il 5G in qualche modo dovrebbe essere capace di rispondere a esigenze limite, tant'è vero che una delle esperienze dei test, primi test sperimentali con il 5G è stata proprio questa, cioè un operatore che guidava una macchina da remoto, guidava una macchina, era una ruspa, che veniva guidata da remoto utilizzando la realtà virtuale. Questo è una slide che più o meno avete già visto, una cosa di cui vi volevo dire, questa è l'evoluzione delle reti mobili dal 1980 ad oggi, quello che vi volevo far notare è che in questa evoluzione si è accorciato sempre di più dal momento che la ricerca comincia ad interessarsi a queste nuove tecnologie, nuove possibilità, al momento in cui effettivamente si diventano queste tecnologie alla portata di tutti, quindi inizia la fase di commercializzazione. Quindi vedete che dal momento che la ricerca si interessa a un argomento, al momento in cui questo argomento diventa qualcosa di commerciale, quindi disponibile per tutta la popolazione, negli anni, diciamo, ci sono voluti decenni, ma in generale si sta accorciando sempre di più. Che cos'è il 5G in poche parole? Gli elementi innovativi sono, da una parte, lo spettro, lo spettro qui vuol dire le frequenze, l'uso delle frequenze, l'uso delle frequenze in cui in questo caso si aggiungono porzioni di bande che fino ad oggi non sono utilizzate. Quindi si cerca, diciamo, in qualche modo con questo di realizzare delle tecnologie che possono dare delle velocità, quindi da data rate, di download, di upload, comparabili con l'attuale rete, con l'attuale rete fissa. Quindi, diciamo, uno spettro che viene utilizzato il più possibile e viene utilizzato tutto e non solo una porzione. Un'altra, devo dire, caratteristica anche essenziale è che finalmente l'architettura di rete, cioè proprio gli apparati della rete internet, che poi costituiscono la rete internet, vengono finalmente ripensati, ricostruiti e riprogettati. Questo non veniva fatto, diciamo, da diverse generazioni. Quindi l'elemento di rinnovo della rete, della core network, come si suol dire, quindi della rete internet, dei nodi che partecipano alla rete internet, questo è un elemento essenziale per poter poi fornire, diciamo, tutti i servizi che avete sentito anche nella precedente presentazione. Chiaramente la fibra ottica, o comunque l'evoluzione della fibra ottica, rappresenta da questo punto di vista anche qui un elemento essenziale per poter valorizzare questi servizi. Un altro punto è sicuramente l'interfaccia radio, cioè qui l'elemento, diciamo, wireless. L'elemento wireless è un altro elemento essenziale, dove si va a sfruttare nella maniera, diciamo, il più possibile, quella porzione di spettro che io ho a disposizione, rispetto, diciamo, alle generazioni precedenti. Questo è, diciamo, sicuramente dovuto alla ricerca scientifica, che riesce a inserire in uno spettro piccolo, a inserire, diciamo, delle velocità che prima non erano possibili. Qui potete vedere, potete apprezzare in qualche modo, il gap dalla generazione precedente. Queste qui sono i requisiti del 5G, mentre qua sotto vedete i requisiti del 4G. E questo è il gap che si prevede che ci sia. Qui vedete la latenza. La latenza è definita come, diciamo, il tempo che passa dal momento che genera un messaggio in una sorgente al momento in cui questo messaggio arriva a destinazione. Quindi un millisecondo significa, diciamo, il 30-50 volte rispetto a quello che può riuscire a fare il 4G. Voi dite, ma a che mi serve questo? 30 millisecondi, in fondo, sono già pochi. Beh, non per tutti i servizi, in realtà. Immaginatevi, ad esempio, di dover avvertire in tempo reale delle auto che stanno viaggiando nel territorio urbano, doverle avvertire che c'è un incidente e che quindi devono frenare. Vedete, avete visto, insomma, avete sentito anche appunto dai media, poi voi siete giornalisti, lo sapete meglio di me, ci sono, si sta andando verso veicoli a guida assistita per poi transitare addirittura a veicoli a guida autonoma. Per un veicolo a guida assistita o guida autonoma poter reagire in un millisecondo invece che in 50 millisecondi significa fare un incidente o non farlo. Quindi questo è in qualche modo giusto per darvi un'idea. Qui vedete dal punto di vista del throughput, quindi vuol dire la velocità, diciamo, di download. Per ogni connessione si passa da 100 megabit al secondo a 10 giga. Ma un'altra cosa che vi volevo far vedere, in effetti, è la quantità di connessioni contemporanee che questa tecnologia mobile può supportare. Quindi si parla, diciamo, di un milione per chilometro quadrato. Quindi come se voi riusciste a, diciamo, anche questo sembra difficile da immaginarselo, però immaginatevi in un futuro in cui ognuno di noi, magari o tutti i cittadini del territorio pratese, avranno una maglietta intelligente che gli misura i parametri vitali durante la giornata. Beh, insomma, ora, attualmente, di certo, con il 4G si possono fare sperimentazioni, insomma, noi le facciamo sperimentazioni di questo genere. Ma quando voi moltiplicate per tutti i cittadini di Prato questo, diciamo, prelievo di dati, beh, diventa impossibile per le reti attuali poter gestire così tante connessioni contemporaneamente. Quindi ecco che è nata l'esigenza di creare una nuova infrastruttura, come quella del 5G, che può supportare elementi del genere. Queste sono le velocità. Ad esempio, un'altra cosa che tipicamente viene chiesta, dice, ad esempio, posso vedere un film in streaming HD mentre magari viaggio in treno sulla TAV Torino-Lione? In questo momento non si può fare. Mentre, ecco, diciamo, l'esigenza è proprio quella di... non è che non si può fare perché non c'è la TAV, ma... Un altro elemento, l'ultimo che vi cito, è proprio questa della nuova architettura. Queste sono proprio... è un nuovo modo di, come dire, di gestire l'informazione a livello della core network. Quindi a livello proprio del cuore di Internet. Al di là del rapporto che c'è fra il vostro dispositivo mobile e la stazione radiobase più vicina, al di là di quello, come poi l'informazione viene gestita proprio a livello della rete Internet. Questa architettura viene completamente ripensata e ovviamente grazie anche a questo è possibile realizzare tutti i servizi che avete sentito prima. Una cosa che oggi, diciamo, in qualche modo non è possibile perché la rete è in qualche modo statica e non molto flessibile. Qui per darvi un'idea, diciamo, della differenza con le generazioni precedenti, quanto tempo prende e quanto tempo ci vuole a fare il download dei Guardiani della Galassia, il film che voi conoscete in HD. Con il 3G ci vogliono 26 ore, che corrisponde a un viaggio in aereo da New York a Sydney. Con il 4G ci vogliono 6 minuti, che è il tempo più o meno per correre un chilometro, un chilometro e mezzo. Con il 5G ci vogliono 3.6 secondi, che probabilmente è il tempo necessario per chiedersi se il download è già finito o no. Questo è giusto per darvi un'idea, un ordine di grandezza su, diciamo, le qualità che ci si aspetta da questo 5G. In generale, il 5G è un tessuto, un tessuto che in teoria dovrebbe unificare tutta la connettività. Qui vedete i tre macro gruppi di servizi che avete già sentito, quindi servizi che sostanzialmente mirano a darvi un data rate, una velocità di download e upload estremamente elevata anche in mobilità, che è questo primo gruppo. Il gruppo Mission Critical, dove sostanzialmente qui si parla di servizi, ad esempio, salvavita, per esempio, comunque, insomma, diciamo, dove la latenza, quindi il tempo di risposta, è critico e dove è critica anche la reliability, cioè la possibilità che un messaggio che viene generato deve necessariamente arrivare a destinazione, non può per qualche motivo non può non arrivare e non può non arrivare in tempo. Ecco, questo sostanzialmente sono le due elementi fondamentali di questo gruppo. L'altro è il Massive Internet of Things, dove, come vi dicevo, la possibilità di avere tantissimi dispositivi sparsi anche su una zona geografica importante, quindi dispositivi che di per sé generano poca informazione, ma sono moltissimi, quindi una densità, qui immaginatevi sensori ambientali, sensori sul corpo umano, che prelevano, diciamo, in tempo reale, prelevano una serie di informazioni. Ecco, per questo primo gruppo, qui vedete degli esempi di potenziali servizi per quanto riguarda il primo gruppo, che è l'Enhancing, o mai il broadband, quindi, diciamo, video telepresenza, un po' come vi diceva anche Alessio Beltrame, la possibilità, ad esempio, di realizzare operazioni chirurgiche da remoto. Chiaramente, per questo motivo, c'è bisogno di un flusso importante di dati per poter avere un video ultra HD in tempo reale, quindi, diciamo, questo è un elemento, ad esempio, oppure condizioni particolari, che per esempio, in questo caso qua, aggregano tantissime persone, quindi, dove è necessario dare connettività a milioni di smartphone, ora, centinaia di migliaia di smartphone in tempo reale, vuol dire, diciamo, in qualche modo, avere la possibilità di avere gigabit al secondo disponibili per ogni connessione. Latenza ultra bassa, la realtà virtuale, video ultra HD in streaming, e questo perché ormai anche l'esperienza televisiva sta andando verso una TV on demand, cioè la possibilità, ovunque io mi trovi, in mobilità, di poter usufruire di video streaming in diretta. Il Massive Internet of Things, ovviamente, implica altre caratteristiche, altri requirements per queste tecnologie, devono essere efficienti, nel senso, devono spendere il più possibile poca energia, devono avere bassa complessità e devono raggiungere un raggio abbastanza, una coverage abbastanza elevato. Qui, per esempio, ci sono servizi di smart metering, cioè la possibilità di prelevare in tempo diretto, in tempo reale, da vari edifici, case edifici, quanto stanno consumando di energia elettrica, quanto stanno consumando di gas, la dispersione del calore, quindi tutte cose che possono essere, diciamo, prelevare informazioni utilissime, che poi, se aggregate, diventano estremamente utili, anche per la pubblica amministrazione, si può capire, ad esempio, come si evolve l'inquinamento all'interno di un territorio urbano, in funzione del tempo atmosferico, quanto sono i consumi di gas e di elettricità nel territorio, si possono realizzare effettivamente diciamo, l'aggregazione di dati estremamente utile. Le case, le smart home, le smart city, questi concetti, implicano la possibilità comunque di prelevare dentro casa delle informazioni, gestirle anche in modo automatico, appunto, utilizzando l'intelligenza artificiale o il machine learning. Ora, diciamo, per quanto riguarda queste parole non sono magiche, eccole, diciamo, in generale l'intelligenza artificiale non esiste, l'intelligenza è degli esseri umani che dicono alle macchine in qualche modo sono, diciamo, degli algoritmi, delle procedure che dicono alle macchine come si devono comportare, ovviamente. Come avete visto, molti, diciamo, sostanzialmente Facebook è un software, è un algoritmo che agisce secondo quello che gli è stato detto, ok? Quindi gli è stato detto di aggregare le persone in un certo modo, di proporre, di reagire in un certo modo a seconda degli input che gli vengono dati. Ora, tenete conto, per esempio, che un social network come Facebook ha circa, mediamente, connessi in tempo reale più di un miliardo di persone nel mondo, ok? Quindi immaginatevi come poter usare, diciamo, modificare questi algoritmi, modificare questa fra virgolette intelligenza possa portare a, insomma, delle modifiche anche nel modo di aggregarsi o di pensare delle persone, visto che siete giornalisti, anche nel manipolare le informazioni. Come avete visto, un software può far cadere un aereo, come ha detto prima Alessio Beltrami, no? Quindi, diciamo, un altro servizio estremamente importante è proprio quello dei sensori wearable. Questo sia da un punto di vista, diciamo, di wellness, quindi di stile di vita, ma anche, diciamo, soprattutto da un punto di vista di health, cioè di salute, della salute umana. Quello verso cui si sta andando è proprio la possibilità di remotizzare il più possibile la cura di una persona. Quindi rendere la persona stessa al centro, metterla al centro della propria cura, quindi del mantenimento della salute o comunque del mantenimento di un trattamento di cura e, diciamo, l'accesso in qualche modo all'ospedale o comunque alle stratture sanitarie avvenga solamente, diciamo, quando è strettamente necessario. Il monitoraggio avverrà, diciamo, da remoto. È chiaro che se pensate che la cura, quindi la salute, quindi dati estremamente importanti come quelli della salute di un paziente, se devono essere gestiti in remoto ci vuole una rete, un'infrastruttura di telecomunicazione che mi garantisce alta qualità, che mi garantisce che non c'è fallimento di comunicazione e mi garantisce anche una bassa latenza, nel senso che quando il dato deve arrivare a destinazione bisogna che ci arrivi con alta qualità e ci arrivi il più presto possibile. questo vedete appunto l'altro gruppo, quelli di Mission Critical, qui vi cito per esempio i veicoli a guida autonoma, è chiaro che se il veicolo deve guidarvi lui al posto vostro, deve ricevere da tutto l'ambiente circostante una serie di informazioni in tempo reale che devono arrivare il più presto possibile, devono arrivare diciamo in modo corretto, quindi non ci possono essere fallimenti da questo punto di vista e così via. anche per l'automazione industriale questo è un elemento estremamente importante, è chiaro che a livello industriale dei robot che aiutano gli esseri umani o comunque invece diciamo contribuistono in modo autonomo al processo produttivo non possono fallire, perché fallire implica in qualche modo o non reagire nei tempi stabiliti implica per esempio perdere una parte della produzione, cosa che sarebbe assurda. C'è tutta la parte dei droni per esempio un altro elemento estremamente della guida dei droni un altro elemento estremamente importante e ovviamente il settore medico ma questo insomma ve ne ho già parlato. Qui vedete in qualche modo che rispetto alle tecnologie precedenti lo spettro di frequenze viene in qualche modo utilizzato tutto permettetemi un po' questa parola o comunque diciamo la banda sotto il gigahertz la banda fra 1 e 6 gigahertz e la banda sopra il 6 gigahertz vengono tutte aggregate insieme e utilizzate in modo intelligente. In generale immaginatevi che più bassa è la frequenza di trasmissione del segnale radio e più alto è il coefficiente di penetrazione quindi più lontano andate. Chiaramente però la banda a disposizione è più piccola quindi comunicare con frequenze basse implica andare molto lontano ma con un basso data rate e quindi si è pensato di aggregare le frequenze diciamo le onde millimetriche quelle che vedete qui quindi le frequenze sopra i 6 gigahertz dove la banda utilizzabile è molto ampia si è pensato di utilizzare anche questa porzione di spettro per dare diciamo per dare servizi ad altissimo data rate anche se su distanze più piccole in realtà tutto lo spettro da sotto il gigahertz fino a sopra i 6 gigahertz viene utilizzato in maniera intelligente dalla core network qui vedete un'altra slide in cui c'è questa proiezione sull'uso vedete qui diciamo in qualche modo l'uso delle comunicazioni mobili rispetto al wifi alle wireless LAN in qualche modo vedete che c'è a un certo punto ci sarà una convergenza diciamo la connettività gli utenti useranno sempre di più la connessione mobile quindi diciamo useranno di più il 5G rispetto addirittura alle connessioni wifi perché in qualche modo il 5G dovrebbe riuscire a darvi una connessione addirittura più veloce in ordinate c'è scritto megabit al secondo è la velocità di dati e in ascisse ci sono gli anni qui vedete i field trials che sono stati realizzati nel mondo sul 5G quindi vedete sostanzialmente che America Australia Russia Cina e l'Europa sono già estremamente attive nel diciamo nella sperimentazione del 5G questo per esempio è uno dei primissimi test bed che sono stati realizzati sperimentazioni 5G che sono stati realizzati da Ericsson in cui sono riusciti a raggiungere 5.36 gigabit al secondo con un terminale mobile questo era quello che vi accennavo poc'anzi sempre Ericsson ha fatto questa dimostrazione in cui c'era un operatore vedete qui con la realtà virtuale che guidava da remoto guidava questo escavatore quindi diciamo l'operatore aveva una virtualizzazione ok vedeva una realizzazione virtuale di ciò che lo scavatore reale che era questo ovviamente era guidato in modo remoto riusciva a fare per cui i comandi venivano percepiti e realizzati in tempo reale questo diciamo l'idea è che questo tra l'altro è un progetto che in Svezia stanno portando avanti per poter far sì che non ci siano veicoli con guida umana in diciamo in condizioni di rischio in condizioni rischiose questo è un altro test realizzato utilizzando esattamente con le stesse strumentazioni quindi con la stessa rete internet l'accesso alla rete internet era lo stesso cambiava solamente l'interfaccia radio fra il 5G e il 4G e qui vedete che l'efficienza spettrale dove per efficienza spettrale si intende quanti bit al secondo per ogni hertz di banda riesco a spingere e qui vedete che sono stati diciamo di fatto il 5G porta un'efficienza spettrale tre volte maggiore rispetto al 4G a parità di banda e a parità di antenna qui vedete la Huawei che ha fatto un primo test il suo primo test sul 5G e ha realizzato un throughput di 10.32 gigabit al secondo e un'efficienza spettrale di 51.6 bit per secondo per hertz che è abbastanza in effetti questo è il secondo test che ha fatto sempre Huawei con bande superiori ai 6 GHz quindi queste erano bande delle millimetriche e hanno raggiunto i 115 gigabit al secondo questo è un test fatto in Finlandia in cui in qualche modo si faceva proprio in condizioni del tutto reali si faceva un confronto fra l'attuale 4G e il 5G e la differenza che vedete qui in termini proprio di bit al secondo medi che venivano diciamo stabiliti all'interno della connessione col 4G si aveva una media di 50 megabit al secondo col 5G di 700 quindi insomma anche questo è un test del tutto reale la Finlandia non è casuale perché poi come sappiamo come forse non sapete ma la Finlandia sta già sviluppando il 6G ha già vinto un bando europeo per un sacco di milioni noi parliamo del 5G oggi e loro sono già a provare il 6G diciamo dal punto di vista dell'armonizzazione dello spettro nei vari paesi europei qui vedete ad esempio una differenza di uso delle bande sul 5G tra gli Stati Uniti e l'Europa in generale chiaramente c'è un ente di standardizzazione internazionale che sta cercando di armonizzare le bande anche se al momento non c'è completamente un accordo qui vedete come col 4G il costo di ogni gigabit questo riguarda il Nord America questi sono sempre gli anni e questo è il costo in dollari vedete che diciamo con in qualche modo l'evoluzione delle infrastrutture di telecomunicazione il 5G dovrebbe portare a far costare un gigabit sempre meno questo vuol dire diciamo in qualche modo che per gli operatori la possibilità di darvi connessione ad altissima velocità dovrebbe costare poco e quindi costare poco anche al consumatore finale qui vedete invece una slide di previsione dell'impatto del 5G rispetto alla fibra ottica nel Regno Unito quello che in qualche modo si prevede è che nel 2025 e 2026 ci sia un in qualche modo un sorpasso del 5G diciamo da un punto di vista economico del revenue del 5G rispetto addirittura alla fibra ottica in Inghilterra questa è la previsione che si fa qui vedete in generale benefici socio-economici del 5G nell'Europa a 28 membri e si parla di 113 miliardi di euro di revenue diciamo dal 2020 in poi la sperimentazione a Prato come sapete questa sperimentazione è a Prato a come capofila Open Fiber e Win 3 sono due operatori che immagino conoscete in particolare Open Fiber è responsabile per la sperimentazione capofila per la sperimentazione a Prato qui vedete la composizione del partenariato ovviamente come vedete c'è l'Università di Firenze il PIN di Prato fra gli enti di ricerca tra le imprese potete vedere Estra qui la ditta di Prato questa sperimentazione è partita a settembre 2017 si dovrebbe concludere a giugno 2020 all'interno ci sono ovviamente ulteriori membri diciamo dell'area pratese come del Museo del Tessuto il Museo Peci la USL la Confindustria il CNA come vedete qua che in qualche modo hanno consentito a sviluppare dei servizi di test che sono utili proprio per testare l'infrastruttura 5G in generale la sperimentazione prevede vari use case che vedete qui listati dal settore health alla videosorveglianza ai sensori IoT e così via vedete questi sono tutti i vari use case che sono che sono previsti da questa sperimentazione e attualmente ogni use case che ovviamente diciamo ha un leader porta avanti la sperimentazione nel territorio nel territorio di Prato ultimamente proprio insomma il 31 gennaio è stata fatta una dimostrazione proprio qui in questa in questa stanza di una comunicazione tra un semaforo e un veicolo utilizzando diciamo la luce visibile per comunicare fra il semaforo e il veicolo c'erano dei sensori c'erano diciamo dei sensori in questa demo giusto per farvi un esempio dell'uso del 5G che cosa abilita l'uso della rete 5G c'erano dei sensori sparsi nella stanza dovevano simulare diciamo dei sensori posti sul territorio urbano ad esempio che prelevando temperatura pressione umidità mi possono dire se su una strada c'è formazione di ghiaccio oppure no quindi immaginatevi un'auto che viaggiando sul territorio urbano passando magari da qualsiasi segnale luminoso che può essere un semaforo un lampione un cartello luminoso qualunque cosa emani luce visibile viene avvertito in tempo reale se sulla strada che sta per intraprendere ad esempio ci sono le condizioni di formazione di ghiaccio oppure attraverso la rete 5G perché i sensori prelevano un'informazione questa informazione viene veicolata attraverso in maniera estremamente veloce con bassissima latenza viene veicolata al semaforo il semaforo attraverso la luce di visibile informa ai veicoli che sono in passaggio di questo allarme o di questo rischio oltre a questo potete immaginarvi per esempio di avere veicoli a guida assistita o veicoli a guida autonoma per cui all'incrocio per esempio c'è un incidente c'è un incendio c'è comunque una condizione di allarme concreta questa dal momento che io invio traverso la rete 5G invio l'informazione di allarme al momento che il semaforo ad esempio o comunque la fonte luminosa che deve veicolare questa informazione alle auto che giungono all'incrocio tutto questo percorso viene realizzato in meno di 10 millisecondi quindi immaginatevi delle latenze estremamente basse assieme a questa sperimentazione qui a Prato ci sono vengono sperimentati anche altri use case dalla videosorveglianza all'ELT con il teleconsulto il telemonitoraggio dei pazienti appunto sensori IOT con anche piattaforme di raccolta dei dati e di analisi dei dati in tempo reale un'ultima cosa che vi cito è anche i beni culturali che insieme al museo del tessuto e al museo Pecci è un altro use case di sperimentazione che viene realizzato proprio qui a Prato in cui si utilizza il 5G proprio per dare delle esperienze di realtà aumentata durante la visita di un museo quella cosa delle valanghe ce la racconti che era molto carina i sensori sparsi sì questo è sono dei sensori usa e getta in qualche modo che possono essere disseminati su un terreno a rischio frana quindi se diciamo se un geologo interessato per esempio da un diciamo da un'autorità locale dal comune di Prato per esempio c'è il rischio che un terreno possa franare questi sono sensori che possono essere seminati proprio seminati buttati sul terreno ogni sensore ovviamente si localizza rispetto a tutti gli altri localizzandosi rispetto a tutti gli altri crea diciamo una griglia di distanze dell'uno dall'altro quindi immaginatevi di avere una griglia virtuale di poter vedere su Google Map una griglia virtuale e di poter apprezzare gli spostamenti di questa griglia in tempo reale chiaramente il 5G in questo caso cosa entra? Entra perché l'aggregazione l'invio di questi dati in tempo reale può essere fatto con latenza bassissima e soprattutto può essere fatto utilizzando un numero di sensori estremamente elevato una densità che diciamo con le tecnologie mobili attuali è sicuramente più complesso utilizzare pensate se c'è una valanga se c'è qualcuno sepolto sotto la protezione civile è in grado naturalmente di montare un apparato per fare delle verifiche però in questo modo i tempi per realizzare un eventuale sopralluogo e capire soprattutto se c'è qualcuno dentro una massa di neve che è scivolata a valle sono quasi in tempo reale no? Sì Sì Grazie a tutti.